Proprio qui due giorni fa ho incontrato il Presidente del Consiglio per un saluto veloce, cosa vi siete detti? L'ha rassicurato sui progetti per il recupero per Napoli? È stato un incontro molto importante perché sulla leale cooperazione istituzionale tra la città e il governo è per noi un obiettivo strategico. Sinora una cooperazione c'è stata, col Presidente abbiamo parlato di 4-5 punti che sono centrali per Napoli e per il Paese, ho registrato un clima assolutamente utile e proficuo, alcune cose si stanno facendo, la svolta nei rapporti tra Napoli e il governo si potrà registrare soprattutto nella manovra di bilancio che sarà approvata come credo tra Natale e Capodanno.